Beh amici sorridiamo anche se non posso dirvi di quale politico o vip parliamo, diciamo politico, però ho 62 anni, sono sensitiva da tanti anni, dal 1979, però prima ero molto più molto più sensitiva, adesso lo sono meno, ma essendo molto esperta di vita colgo, colgo subito. Mi sono accorta, seguendo un politico su web, di alcune stelline, alcune vipette, che a ogni post di questa persona sono lì a salutarlo. Probabilmente anche altre persone, però io ho notato sempre queste due vipette che salutano questo politico. E io me ne sono accorta, queste due proprio non fanno né politica, ne sono colte, sono veramente vipette. Il fatto che loro insomma lo corteggiano, questo tra l'altro è anche fidanzato, quindi insomma si capisce? Se io vedo questo post di questo politico che parla, non lo so, di corruzione il mio tema, io rispondo per il post della corruzione, no? Invece queste, tanti complimenti. Intanto ripeto, è fidanzato, quindi il profilo. Poi non è un vip, perché a un vip tu gli puoi anche dire quanto sei bello, quanto sei bravo. A un politico che lo corteggi su un profilo che lo vedono tutti. Ma la cosa più bella è che c'è una vip sempre spogliata, che non ne ha bisogno, perché è carina, è brava, sa ballare. E fa sempre su Instagram delle foto sempre più sensuali, ma insomma stiamo parlando, non dico pornografia, perché si può chiamare foto nudo artistico, però insomma abbastanza pesante. Sinceramente, cioè, non lo so, fai delle foto, ma c'è le pubblichi come se tu non hai altre alternative. E invece il cervello ce l'hai. E che cosa ho visto su questa foto molto bella, perché è una bella ragazza che fa bene a mostrare il corpo, però non deve essere mostrato H24 perché non hai altre risorse. Se no veramente ti consiglio pure io di fare l'escort alto livello, almeno fai i miliardi. Ci sono un po' dei controsensi con queste vip, no? E ho visto il politico che ha messo il like. Eccola dove sta l'ipocrisia, capito? Eccola dove sta l'ipocrisia. Che noi sono tanti anni che abbiamo la corruzione nei tribunali, specialmente in politica, storie del passato, perché c'è molta lussuria. Perché gli uomini sono tutti puttanieri e se non vanno a donne, a ragazzi giovani, a ragazze giovani, vanno a trans o vanno a gay. Quindi c'è depravazione. La depravazione porta droga, la droga porta eccessi. Ma poi ci sono proprio gli uomini che sono puttanieri. Quindi si parla sempre a metà, non si dice proprio tutta la verità. Comunque, dato che tutti stanno sui social, io se fossi una politica, il like a un attore di fission che però mi posa nudo, non le metterei. E' questo il potere dei social, che si nota tutto, come si notano alcune presentatrici che quando parlano di uomini gli brillano gli occhi. Fate voi. Un po' limitatevi.